A pochi giorni dalla presentazione della fotografia sulle emergenze sociali del territorio presentato dal primo osservatorio povertà di Pesaro, la Caritas diocesana ha illustrato oggi anche la campagna d'avvento 2023. Momento prenatalizio in cui Caritas invita ad una riflessione sulla carità come esperienza concreta dell'essere comunità. Quattro i progetti su cui si concentra la campagna d'avvento, il sostegno ai minori, l'ospitalità per chi non ha casa, i pasti per la mensa e il sostegno farmacologico. Nel nostro report annuale abbiamo appunto evidenziato come su oltre 3.800 persone che sono state quelle raggiunte da Caritas nel 2022 ben un terzo sono minori e come appunto ormai è scientificamente provato purtroppo minori che vivono all'interno di famiglie in povertà sono più a rischio di avere un futuro di povertà. Quindi con il nostro intervento cerchiamo, per quello chiaramente che riusciamo, a spezzare questa catena di ereditarietà della povertà e sostenendo questo progetto si sostiene proprio la vita e lo sviluppo il più possibile come dire sociale e normale dei nostri minori. Quindi aiuto per quanto riguarda il sostegno scolastico, per quanto riguarda la possibilità di fare sport e ecco tutto quello che può concerne diciamo una vita di socialità e di normalità. Per quanto riguarda invece il sostegno alla salute Caritas da tanto tempo si occupa sia di persone che non hanno l'accesso all'assistenza sanitaria per mancanza di documenti, mancanza di residenza e anche di persone che non riescono a curarsi per diciamo problemi economici. Quindi nel 2022 il nostro centro di ascolto per la salute ha realizzato quasi 900 interventi e anche il nostro impegno economico per le spese sanitarie negli ultimi quattro anni è aumentato del 70%. Quindi capiamo come anche questo ambito sia veramente un punto dolente nei vari bisogni del nostro territorio. Il terzo progetto è quello dedicato a un pasto al giorno cioè alla mensa Caritas quindi alla possibilità di sostenere questa distribuzione di pasti che nel 2022 è stata superiore alle 18.000 unità. Questo perché appunto la mensa Caritas è aperta sei giorni su sette, è aperta durante le festività come lo sarà per il periodo natalizio e raggiunge ogni giorno circa 60 persone che non ci dobbiamo immaginare solo persone di passaggio ma sono persone anche stabili, stanziali e residenti nel nostro territorio. Infine l'ultimo progetto è quello dell'ospitalità notturna e tocca appunto un tema che sappiamo essere molto delicato che è quello dell'emergenza abitativa. Tra il 2021 e il 2022 abbiamo aumentato i nostri posti letto per persone senza dimora che sono passati da 24 a 35 e anche il nostro impegno economico è aumentato e per un terzo è dedicato proprio a sostenere l'emergenza abitativa di chi si presenta in Caritas. Quindi donando per questo progetto le persone potranno aiutarci a sostenere i nostri centri di accoglienza e i nostri interventi per le famiglie in difficoltà. Progetti che si possono sostenere con donazioni economiche o semplicemente rimboccandosi le maniche accrescendo la rete di volontari di Caritas. Tutto parte diciamo dalla nostro sentirci comunità, nostro sentirci solidali con tutte le persone e quindi vivere e camminare nella logica della fraternità. E allora diciamo ecco nel momento che si realizza sul territorio tra le varie realtà presenti questa risposta stile famiglia come io dico spesso che è una risposta di fraternità e a quel punto diciamo anche Caritas si impegna e risponde per aiutare le persone che approcciano a noi, che chiedono aiuto proprio nella prospettiva diciamo ecco di una risposta che rappresenta una comunità che si fa carico dei bisogni delle persone.